Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata ancora alla grave vertenza a Gela e alla rimozione dei blocchi degli ex lavoratori alle vie d'accesso allo stabilimento industriale. Il punto in questo servizio? Sono state ore delicatissime quelle vissute nella serata di ieri per la vicenda che riguarda i lavoratori dell'indotto dell'industria di Piana del Signore a Gela. Questi fatti, già durante il vertice presso la prefettura di Caltanissetta, convocato dallo stesso prefetto Maria Teresa Cucinotta, erano state accolte e confermate le richieste al governo nazionale sulla vertenza a Gela, avanzate giorni addietro dal presidente della regione Rosario Crocetta, dal sindaco di Gela Domenico Messinese e dai sindacati. Al vertice erano presenti le parti coinvolte, rappresentanti degli assessorati regionali alle attività produttive e al lavoro, Confindustria, Lega Coop, CGL, Cisle e Will, rappresentanti della raffineria di Gela, Sindial ed una delegazione dei lavoratori dell'indotto. Per il comune di Gela erano presenti il primo cittadino Domenico Messinese e l'assessore Simone Siciliano. Nella stessa sede il prefetto aveva chiesto ai sindacati di promuovere uno stop immediato ai blocchi dei lavoratori, al fine di sbloccare le attività svolte nel sito produttivo dell'ENI, garantendo attraverso il regolare accesso dei lavoratori le necessarie condizioni di sicurezza, anche allo scopo di non ostacolare il percorso di attuazione del protocollo di intesa. Ed è a questo punto che i sindacati intraprendono una delicata mediazione con i lavoratori e ieri sera stesso, dopo una settimana di presidi lungo gli accessi stradali che conducono allo stabilimento industriale, i blocchi vengono rimossi. Giudice, ieri il prefetto chiedeva a tutte le sigle sindacali di trovare una mediazione con gli ex operai che stavano protestando e che di fatto bloccavano gli operai del diretto che dovevano dare il cambio turno ai colleghi che erano rimasti bloccati all'interno dello stabilimento. Questo poteva provocare una situazione di grave tensione che poteva anche degenerare vista la stanchezza dei dipendenti all'interno dello stabilimento. Sì, era una situazione al limite derivante da una necessità umana di manifestare in modo civile che è quello che hanno fatto gli ex lavoratori di elettroclima, della nuova ex gamma, di asfalto e bitume e di tutte le aziende che purtroppo alcune ci sono, altre no, sono state dismesse, hanno perso l'occupazione. È un dramma senza fine. Siamo qui come sindacato, anche rappresentanza parlo di Cisleville, per dire che non ci sono toni trionfalistici dopo la riunione in brevettura. Vi è una apparente calma. I lavoratori non sono stati in una nottata ricollocati in qualche azienda gelese o meno. I lavoratori sono a casa, sempre licenziati, però ora hanno una speranza. Quello che la Regione, assieme al Ministero del Lavoro, si occupi delle loro vite lavorative, lavoratore per lavoratore. Voi avete accolto quindi le richieste del prefetto Maria Teresa Cucinotta. È stato semplice mediare con gli ex lavoratori, con chi rivendica il proprio diritto ad una vita dignitosa? Ma io devo essere sincero, come sempre, nulla è semplice nel sud Italia. Gela è una polveriera. Lo era e rimane sotto il profilo occupazionale. Col prefetto abbiamo mediato perché sono state accolte alcune nostre rivendicazioni. Il prefetto le ha fatte proprie e devo dire che è dimostrato che quando le istituzioni, penso anche al sindaco e al vice sindaco che erano presenti, hanno una sensibilità nell'accogliere le motivazioni dei lavoratori e noi abbiamo la sensibilità di accogliere le proposte delle istituzioni, in questo caso il Comune, tutto viene più semplice a tutti. Ora siamo legati a domani. Domani c'è questo incontro alle ore 13 a Palermo per vagliare la posizione di ogni lavoratore in merito alle castitrazioni e alle mobilità. Ma è chiaro che noi siamo legati a un progetto industriale che se non dovesse partire o dovesse ancora registrare momenti di debolezze noi rifaremo presidi e quant'altro perché così non va senza risposte concrete. Il Comune di Gela si doterà presto di un nuovo elenco di imprese interessate all'affidamento dei lavori con procedura negoziata all'approfondimento in questo servizio. Arriva al Comune di Gela la neocostituzione di un elenco delle imprese. Il settore lavori pubblici ha pubblicato l'avviso per il quale le ditte interessate all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, cottimo fiduciario e procedura ristretta semplificata dovranno produrre entro il prossimo 11 gennaio un'istanza dichiarazione in carta libera con un modello reperibile sul sito internet del Comune di Gela. L'assessore Arramo Nuccio Di Paola. Sì, è un'opportunità per le imprese locali. Entro l'11 gennaio dovranno presentare tutta la modulistica per poter essere inserite all'interno degli elenchi dei lavori pubblici. La modulistica è presente nel sito, basta collegarsi all'albopetorio del Comune di Gela. L'albo non veniva rinnovato dal 2012 e come clausola abbiamo inserito che per ogni anno, per la trasparenza e per dare ampia possibilità agli imprenditori della nostra comunità l'albo potrà essere rinnovato di anno in anno. Ogni azienda potrà fare domanda a seconda del settore di interesse può essere lavori sulle strade, piuttosto che il decoro urbano piuttosto che altri lavori che riguardano i lavori pubblici. Verranno inseriti in delle elenche a cui noi come amministrazione potremo attingere per lavori di importi o inferiore ai 40.000 euro o per importi che possono andare dai 40.000 euro a un milione di euro. È un'ottima possibilità per tutti gli imprenditori locali e per questo li invito naturalmente ad affrettarsi a scaricare la modulistica e presentarla entro e non oltre l'11 gennaio. Sono in pagamento i contributi di libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. Ne dà notizie all'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Chetti Damante, che ha precisato che gli interessati possono recarsi a qualsiasi sportello della banca Unicredit muniti di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale per incassare le somme di denaro relativo all'anno scolastico 2012-2013. Natale all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme. Il tema delle due giornate organizzate all'istituto scolastico Antonietta Aldisio di Gela, diretto da Adriana Quattrocchi. È stato ospitato il Vescovo che ha anche visitato la scuola Luigi Capuana diretta da Concetta Mongelli. Siamo andati a vedere. Due giornate di festa per alunni e docenti del primo circolo didattico Antonietta Aldisio di Gela, preludio delle feste natalizie per condividere momenti di gioia e serenità. I bambini, gli insegnanti e il dirigente hanno accolto calorosamente il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. Allestiti, un tavolo di beneficenza, una mostra di artigianato e il presepe vivente. Oggi sono venuto a trovare questi nostri ragazzi in questa bellissima scuola che è davvero molto polifunzionale. Nel senso che coglie, almeno questa è la mia impressione immediata, coglie un aspetto importante della cultura che non è soltanto nozionistica. Certamente è importante apprendere le nozioni perché non si può crescere senza conoscere, però la conoscenza ha sempre un duplice rivolo. Certamente quello dell'insegnamento a partire dalla cattedra, ma anche quello della vita. E purtroppo oggi dobbiamo ammettere che l'insegnamento che nasce dalla vita diventa sempre più risicato, se non addirittura talvolta assente, per le tante, direi anche poche, attenzioni nei confronti dei nostri ragazzi. Oggi siamo felicissimi di avere con noi Sua Eccellenza il Vescovo. La festa del Natale per il primo circolo di Gela è sempre un grande evento. La scuola si prepara, i bambini, le insegnanti, le famiglie, ma quest'anno ha avuto una luce in più, che è quella della presenza del nostro Vescovo. La festa del Natale è un qualcosa di importante per i bambini, al di là delle tradizioni, al di là del credo religioso, e al di là di ogni simbolismo religioso, comunque è simbolo di pace, di amore, di famiglia, di misericordia. Quindi in ogni caso, anche se una scuola dovrebbe essere laica, il Natale è una festa che va praticata, perché è un messaggio comunque che dà ai nostri ragazzi e che sono quei valori universali che prescinde da ogni credo religioso. Il Vescovo Monsignor Rosario Gisana è stato accolto anche nella scuola Luigi Capuana per incontrare alunni ed insegnanti. Il dirigente scolastico concetta Mongelli. Abbiamo il grande piacere di ospitare il Vescovo. Il Vescovo ci ha chiesto ospitalità, noi e tutta la scuola, dai docenti, gli organi collegiali, i genitori, abbiamo il piacere di accoglierlo. In particolare in questo momento, in cui è importantissimo, secondo noi, rivalutare la nostra cultura. Vero la scuola è laica, però è vero che la nostra cultura ha radici profondamente cristiane e comunque il cristianesimo, il Cristo in croce, dà solo messaggi di pace, di amore, di solidarietà, di accoglienza, che sono sicuramente messaggi altamente civili, adatti a qualsiasi tipo di società. Quindi siamo felici di accogliere la Chiesa che si umilia e viene a salutarci, come Maria è andata da Elisabetta. Sono 400 gli studenti gelesi che, grazie al progetto Passaporto per il Volontariato, ogni anno sperimentano la gioia del donare il proprio tempo a favore degli altri. Un bilancio di attività davvero importante. L'approfondimento in questo servizio, vediamo. Tempo di bilanci che riguarda nel progetto di successo Passaporto del Volontariato, ideato dal coordinamento delle associazioni di volontariato, la Casa del Volontariato, con il supporto progettuale del Movi e il sostegno del CESVOP. Il progetto prevede la partecipazione degli studenti, grazie ad un protocollo di intesa con le scuole, agli atelier promossi dalle associazioni di volontariato di Gela. Oggi abbiamo un incontro dei nostri ragazzi con la Casa del Volontariato e il Movi, proprio perché vogliamo aprirci alla realtà che è esterna alla scuola, perché nel volontariato i nostri ragazzi possono avere la possibilità di riempire il tempo libero, di trovare hobby, di dedicarsi a situazioni di aiuto alla realtà esterna che li arricchisci interiormente. Gela è la prima città d'Italia a rendere stabile il progetto Passaporto del Volontariato. Si tratta di un'esperienza concreta di educazione alla cittadinanza attiva che faranno i ragazzi in tutti i quartieri della città di Gela. Questo progetto è reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione di tutte le organizzazioni di volontariato e delle scuole, ma anche delle famiglie che daranno la disponibilità a fare ai ragazzi delle scuole superiori questo percorso. Saranno coinvolti 92 volontari in 24 progetti, come dicevo prima, distribuiti su tutti i quartieri. Diventa per la città pertanto un'occasione straordinaria per ragionare in modo efficace sulla questione educativa. Il volontariato in questo ha semplicemente lo scopo di aiutare la funzione educativa delle famiglie e delle scuole costruendo quella sinergia che è indispensabile e necessaria per costruire una città. Questa esperienza è un'esperienza molto forte, ma nello stesso tempo è un'esperienza bellissima. Io credo che fare volontariato sia una delle azioni più belle che si possa fare specialmente in questo periodo in cui il mondo è sopraffatto da guerre. Avvicinarsi al volontariato per comunque dedicarsi il proprio tempo libero alle attività legate al sociale, all'aiutare gli altri al prossimo e magari evitare di passare il proprio tempo in attività futili, come spesso vediamo i giovani nelle piazze. Avvicinarsi anche al volontariato porta comunque solo esperienze positive. Dal volontariato nascono molte amicizie, amicizie magari anche con la gente che non ci aspettavamo per esempio il ragazzo disabile, il ragazzo che ha la sindrome di Down. Una stazione climatico balneare a Gela è la proposta del professore Nuccio Mulè che spulciando l'archivio storico del comune di Gela ha scoperto delle fonti scritte molto interessanti. Ne abbiamo parlato con lo storico gelese. Sentiamo. Professore Mulè, in un comunicato stampa lei propone una stazione climatico balneare a Gela, un'idea che sembrerebbe innovativa in questi anni ma che in realtà è stata ripescata nell'archivio storico del comune di Gela. Sì, durante una delettante ricerca che ho fatto all'archivio storico ho trovato un carteggio che si riferisce a una stazione climatica a Gela. Nel 1928 il potestà dell'epoca scriveva al Ministero degli Interni per farsi autorizzare l'istituzione di una stazione climatica terapeutica e a quanto pare confortata, vedendo altri carteggi, da diversi comuni dell'Interland, Vittoria, San Michele di Canzeria, Butera e quindi a quanto sembra questa stazione climatica nacque, tant'è che nel 1930 fu realizzato l'ospizio marino. Ce ne siamo un po' dimenticati in realtà perché si tratta di sfruttare quello che già c'è, che esiste assolutamente, ovvero il clima straordinario che abbiamo in questa città e poi la sabbia. E pare che appunto che questa sabbia abbia dei benefici importanti per la salute. Ma non è solamente questo che è stato dimenticato a Gela, moltissime cose sono state dimenticate a Gela, in particolare dopo l'insediamento del petrolchimico che ha fatto perdere alla città l'imprenditorialità. Speriamo che rinasca questa imprenditorialità e in particolare riservata a questa istituzione, ristituzione della stazione climatica. Nell'ospizio marino che funzionò fino alla fine degli anni 50, primi anni 60, erano ospitati ragazzini dai 7 ai 15 anni che avevano malattie riferite alla pelle ma anche riferite all'apparato polmonare. E attraverso la psammoterapia, cioè la cura della sabbia, e la talassoterapia, la cura del mare, e anche all'elioterapia ovviamente, venivano a passare tutta l'estate qui con benefici di guarigione che sono stati dimostrati, che io ho visto in altri carteggi. Dunque lei vorrebbe lanciare adesso una proposta? Certo, una proposta agli imprenditori e ai giovani in particolare, dal momento che c'è questa dismissione dell'indotto quindi bisogna darsi da fare, ed è quella di realizzare una start-up per fare in modo di istituire a Gela, come è stato fatto negli anni 30, una stazione climatica di cura. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela. Fino al 6 gennaio, nei locali del Palazzo Ducale, mostra dei presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostre di presepi, albero della vita nel piazzare della chiesa di San Rocco, a Cantina Sociale, sempre fino al 6 gennaio, nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo subito con la nostra consueta rubrica in breve. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Divina Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana. A Gela, il 6 gennaio, presso la Piccola Casa della Misericordia, e a Enna, presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Seconda mostra di presepi. Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città. Previsti intrattenimento e degustazioni. L'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. L'inaugurazione è prevista per sabato, 19 dicembre, alle ore 18.00. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Domani concerto di Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21.00. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20.00. Per informazioni 093-911-892 oppure 345-5880-580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costa 50 euro, mentre il singolo spettacolo 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Sergio Vespertino. E adesso un servizio che riguarda l'università insediata a Caltanissetta. Vediamo. Una notizia più che positiva per gli studenti del consorzio universitario Nisseno, ma più in generale per la città di Caltanissetta. Dopo anni di attesa, entro la fine dell'anno, verrà aperta la casa dello studente, vero e proprio gioiello, nel cuore del centro storico. È quanto emerso dall'incontro tenutosi al consorzio universitario, a cui hanno preso parte, oltre ai vertici dell'ente, anche gli assessori regionali Gianluca Miciche e Bruno Marziano. L'ex convento, dunque, offrirà un servizio in più per i tanti studenti pendolari che potranno soffruire di strutture adeguate. Credo che possiamo essere stasera veramente orgogliosi e felici di aver accolto l'assessore regionale all'università che ci ha dato conferma di quello che era un nostro obiettivo, quello di aprire la residenza universitaria entro fine anno, che consentirà ai nostri giovani studenti universitari che hanno diritto allo studio, diritto all'alloggio, cosa che purtroppo nei passati anni, nei 20 anni trascorsi del consorzio non era mai successo, quello di poter realizzare un percorso di sviluppo all'interno di una struttura che è quella della residenza dell'ex convento di San Domenico che purtroppo da diversi anni ultimata e mai abitata, questo ci consente in qualche modo di definire un piano strategico che è quello che due anni fa ci siamo dati. È emerso che c'è l'esigenza e anche la volontà di aprire entro la fine dell'anno la nuova sede universitaria che verrà affidata all'ERSU del consorzio universitario di Caltanissetta e questo è un fatto importante non solo in sé perché l'università si dota di una nuova struttura per l'accoglienza degli studenti ma è anche un modo per garantire il diritto allo studio, è un modo per evitare che i nostri ragazzi trovino più conveniente andare in altre università del nord dove questo diritto viene garantito piuttosto che in quelle del meridione della Sicilia e poi c'è da dire che la casa dello studente, l'alloggio è un elemento di identità, io non solo studio in un territorio ma ci vivo, socializzo, lo arricchisco con il mio sapere. Una riunione che ho fortemente voluto alla presenza del collega Marziano per confermare degli impegni presi, uno è quello dell'apertura entro il 31 dicembre della residenza universitaria che serva da impulso per rilanciare definitivamente il progetto universitario a Caltanissetta. Siamo allo sport, secondo e terzo gradino del podio per tre coppie della SD Lions Dance di Gela De Fratelli Antonina e Mirko Runza. Sabato scorso al Palaghiaccio di Catania si è svolta la prima tappa di Coppa Sicilia promossa dalla FIDIS, la Federazione Italiana Danza Sportiva che ha visto partecipare nella disciplina danza latinoamericana e sei coppie della Lions Dance, la coppia formata da Luigi Spadaro e Ginevra Falsa Perla si è classificata al secondo posto della 12-13 anni C2, secondo posto anche per la coppia Christian Di Bartolo e Sofia Storiale nella categoria 16-18 classe B3, terzo posto per Tommaso Russello e Alessia Bullo di Vicata nella categoria 19-34 classe C, quarto posto per Stefano Castelletti e Flavia Labiso nella categoria 12-13 classe C, sesto posto per Gabriele Corfu e Bernadette Di Dio nella categoria 10-11 classe C3, ottavo posto per Antonio Di Dio e Marika Scerra nella categoria 12-13 classe C. Le coppie della Lions Dance torneranno a gareggiare il prossimo gennaio in occasione del campionato provinciale FIDIS. Adesso c'è l'informazione cinematografica, è Babbo Natale non viene da Nord e il nuovo film in proiezione al Cineteatro Antidoto di Gela da domani vi ricordiamo gli orari di rotazione della pellicola 17-30, 19-30, 21-30 lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Anna Brisco, la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri la regia è affidata a Giancarlo Bella. Bene, termina qui il nostro telegiornale grazie per la gentile attenzione, vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato arrivederci! www.tg10.it